E' arrivato il momento solenne degli inizi nazionali. Dunque Luca, dacci la tua opinione su una partita affascinata che sta per cominciare. Credo che sarà fondamentale da parte degli allenatori leggere bene la partita e fare qualche cambio in corso. Davvero uno stadio imponente con gli spettatori a ridosso del campo che danno il sostegno alla propria squadra. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Buono il recupero, il momento completamente in ritardo. Salping Guinness. Buona opportunità, laterale. Prova a metterla in avanti. Cross controllato dalla difesa. Attenzione, pericolo ancora. In questo caso l'azione è stata troppo prevenibile. Clasino. Lancia il pallone in avanti. Ha letto perfettamente la sua azione. Torosidis. Karagunis. 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 Samaras. Karagunis. Karagunis. Ottima posizione. Vediamo a chi la passa. Occhio a cross. E sono fuori dalla contraerea. dietro verso il compagno. Portiere super qui. Davvero una grandissima respira. che stacco di testa. Eccolo la rete. Ha iniziato alla grande. Un gran colpo di testa. Ma anche il calcio d'angolo era stato battuto in maniera perfetta. Grazie. Guarda. 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 Se ne sono andati più di 600 secondi dall'inizio della gara La Sib Rosicchi Rosicchi Recupera il pallone Salping Guinness Arriva sulla trequarte avversaria E' inarrestabile Tros verso il centro dell'area Ottimo l'intervento che è lontano Rosicchi La Sib Varos Brasil Gira sulla fascia Da lì non si passa Libera senza pensarci troppo Sibok Riceve dall'altra parte del campo Lipsman Brasil Rosicchi Brasil Reconquista il pallone Gli è la ridata Salping Guinness Vicini alla mezz'ora del primo tempo Può arrivarci di testa La difesa si è incavata in una situazione non facile Passaggio sbagliato, niente da fare Nasib Rosicchi Varos La mente al centro Buona lettura di pensiero Rosa Spitto Samaras Salping Guinness Prova il cross in area Cross respinto Troppo fretta di eseguire il cross in questo caso Samaras Occhio all'occasione Salvataggio del portiere che mette il pallone sul fondo C'è il colpo di testa Nulla da fare C'è il gol Sembrano soffrire i calcini a fermo La difesa deve fare decisamente meglio Occhio all'occasione Appena 5 minuti alla pausa. Kadlec, Rosicchi, ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Samaras. Metterla in mezzo, occhio può tirare, ottima lecura la parte della difensore. Non c'è spazio, la difesa fa muro, non riescono ad avanzare. Intervento decisivo, Rosicchi. Arriva dunque il fisco finale di questa prima frazione. Il vantaggio è rassicurante, l'unico pericolo può essere il rischio di rilassarsi. Devono continuare su questa strada e mantenere la stessa intensità. 2 a 0, un avvertito importante dopo questi primi 45 minuti. ... 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 Cosa a centro, al volo, un tentativo tra i difensori Ha visto uno spazio tra i difensori e l'ha sfruttato per concludere Il tiro non è stato irresistibile, ma la visione di gioco... Ottima la lettura difensiva Fotakis La butta dentro Ha letto bene il tempo dell'azione La silva La mette dentro Buon recupero del pallone Se ne è andata un'ora di gioco Lungo pallone in avanti Attenzione Lungo pallone in avanti E qui non ha visto il compagno libero sulla fascia laterale Una palla Adesso può ripartire Ci prova Buon tentativo 1-2 stupendo Bellissima azione davvero Avrebbe meritato il gol Peccato per il tiro Non irresistibile Perfetto rubido Calcio di punizione È il loro secondo cambio oggi Credo che questo cambio sia utile per mantenere il vantaggio e di interrompere le offensive degli avversari Ottima azione difensiva Non riuscite ad allontanare il pericolo Fodakis Eccolo Ottima scelta di tempo Più del benissimo Pallone che viene intercettato Rosicchi Siamo quasi nel quarto d'ora finale Trova ad andare profondo C'è il lancio lungo Ottima La lettura di Pezzina La squadra era salita bene Ma niente di fatto E intanto il tempo Sa per scadere Fodakis Koseolebas Sabaras Katsuranis Colpita bene al volo Brutta conclusione Si è mosso bene Ma quando sembrava fatta Impossibile con un pallone del genere Per servire il compagno Termiere con sicurezza Allora verrà posizionato Per una nuova rimessa dal fondo Solo cinque minuti al fischio finale Buon recupero Buon recupero Brasil Hanno allontanato Hanno allontanato Una minaccia possibile Viene fermato Viene fermato qui A calcio di pulizioni Facile presa del portiere Facile presa del portiere E dunque si chiude Alla fine è stato un episodio A fare la differenza È davvero tutto Grazie Luca Un saluto Un ringraziamento La parte Il vero ci parla Il vero ci parla